Musica Dottor Lamarca, che cos'è un hospice? L'hospice è una struttura residenziale dove eseguire cure palliative. Questa struttura nasce ovviamente da lontano, è una normativa nazionale fatta propria poi dalle varie regioni. La realtà degli hospice della regione in cui io opero, che è il Veneto, risale al 2000. Essendo inserita nella rete delle cure palliative garantisce un LEA, cioè un livello essenziale di assistenza ai malati terminali e non, a costo assolutamente zero, nel senso che viene erogata un'assistenza di alto livello qualitativo assolutamente gratuita. Le cure palliative in realtà sono un'attività che nasce da lontano. Noi l'abbiamo mutuata, noi italiani, negli anni 70 da esperienze anglosassoni. Quindi il primo ambito di interesse delle cure palliative e quindi degli hospice nacque rivolto ai malati oncologici nella fase di terminalità brutto termine, è anche un gioco di parole spiacevole, che implica cioè quella fase di malattia in cui non c'è più una terapia specifica, oncologica, chirurgica, radioterapica, per questi malati, i quali una volta venivano letteralmente abbandonati al loro destino. Morivano di solito in ospedale, male, oppure a casa, peggio. Le cure palliative nascono quindi per garantire un livello di assistenza ottimale a questi malati che entrano in un percorso di malattia che li porterà ad un fine vita e quindi ad una morte che però deve essere comunque dignitosa. Quando il paziente è in fase finale, usate la sedazione con morfina? Dovremmo parlare di sedazione palliativa continua, profonda, nell'imminenza della morte. In realtà il vero dubbio, il vero problema che affligge non solo gli utenti, quindi i cittadini italiani, ma anche i miei colleghi medici e la paura di utilizzare farmaci che sono visti come qualcosa che aiuta ad accelerare il processo di morte, quando invece sono farmaci che servono esclusivamente a lenire il dolore e la sofferenza. La sedazione profonda non utilizza solo ed esclusivamente la morfina, anzi la morfina è uno dei farmaci ormai meno utilizzati in cure palliative. Ma nella sedazione palliativa della fase terminale non si usa la morfina o gli opiacei se non c'è il sintomo dolore, vengono usati altri farmaci. Quindi la sedazione palliativa continua nell'imminenza della morte, viene proposta al malato e ai suoi familiari, richiede comunque un consenso più che informato, quindi consapevole, e viene praticata solo quando ci sono dei sintomi non più facili da gestire. Anche l'angoscia della morte è un sintomo che noi consideriamo refrattario. Questo è il termine tecnico che ci consente di utilizzare questi farmaci in dosaggio anche importante, lì dove questo termine refrattario implica proprio la impossibilità di intervenire in maniera efficace sui sintomi con i comuni farmaci o con le comuni dosi di questi farmaci. Di che cosa ha bisogno la medicina per migliorare ancora di più l'uso di cure palliative? Le cure palliative hanno in questi 20 anni seguito un percorso, da un punto di vista scientifico, di ricerca, assolutamente efficace. Quello che manca è la cultura delle cure palliative. Le cure palliative, a differenza della medicina occidentale tradizionale, è una medicina olistica, diciamo noi, cioè che si occupa a 360 gradi del malato, della persona malata, non del sintomo singolo o dell'organo malato. Non solo, ma queste malattie sono malattie familiari. Coinvolgono tutto il nucleo familiare, anche parentale allargato, anche degli amici. Se agiamo in maniera coerente e adeguata, riusciamo ad anticipare quello che si chiama l'elaborazione del lutto. Non è infrequente che i familiari ci vengano a ringraziare, nonostante il dolore della perdita del loro caro, perché si sono sentiti aiutati, sollevati, sostenuti, accolti. I familiari hanno coscienza di che cosa sia un hospice quando portano il loro caro qua? Purtroppo non sempre. C'è una mancanza di conoscenza e di cultura diffusa, non solo da parte delle persone in generale, quindi degli utenti, noi usiamo questi brutti termini burocratici, ma purtroppo anche nella classe medica, nel suo complesso, che spero che la nuova legge 219 dell'anno scorso, quella cosiddetta sul Biotestamento, riesca finalmente a smuovere da un torpore culturale, da cattive abitudini inveterate, assunte negli anni, che hanno distaccato da quello che noi consideriamo la medicina umanistica, l'umanizzazione della medicina. Medicina olistica, come dicevo prima, vuol dire la cura del tutto, cioè non della malattia, non dell'organo malato, ma della persona che in quel particolare frangente è malata di qualcosa. Questo vuol dire avere rispetto della persona, rispetto dei suoi valori, della sua qualità di vita che è personale, ognuno di noi ha la propria qualità di vita e questa va conosciuta e questa va garantita se possibile. La morte non sempre è un passaggio negativo, può essere un momento di arricchimento per il nucleo familiare, di riavvicinamento, è un momento che va in qualche modo usato, sfruttato, perché se poi ci mettiamo di mezzo la fede e le persone fortunate che ce l'hanno, anche questo può essere un momento di riavvicinamento. Il vero segreto sta nel tempo che noi dedichiamo al malato e ai suoi familiari. Io non sono solo il responsabile clinico dei due hospice della mia azienda, che sono situati uno a Portogruaro, dove oggi ci troviamo, e l'altro a San Donà di Piave, anch'esso inserito all'interno di una casa di riposo che è un IPAB, ma io sono anche il responsabile di un'unica operativa di cure palliative domiciliari. Quindi noi abbiamo iniziato in questa azienda il percorso delle cure palliative attraverso l'assistenza domiciliare integrata di cure palliative con un gruppo di operatori dedicati interamente alle cure palliative. Io in questo momento dispongo di sei infermieri, di un coordinatore infermieristico, di due operatori sociosanitari, ma questa scelta è stata fatta, è stata chiesta, offerta, proposta al nostro direttore generale che ci sta sostenendo in questa nostra attività in maniera piena, ed è il dottor Carlo Bramezza, che crede molto in questa attività di cure palliative. Dalla sua esperienza, le è capitato di percepire che il paziente, visto il posto dove è stato ricoverato, si lascia andare e si senta abbandonato? Molto spesso sì. In effetti noi chiediamo in maniera molto forte ai familiari la loro presenza, anche di notte, proprio per dare alle persone che entrano, soprattutto nei primi giorni di degenza, la sensazione di non abbandono. Molto spesso, soprattutto i malati più anziani, risentono degli spostamenti di ambiente dal domicilio all'hospice o dal reparto ospedaliero all'hospice, in maniera tale da richiedere poi un intervento di tipo sedativo, perché si disorientano, si spaventano, non capiscono dove sono. Per evitare di dover usare farmaci sedativi, è molto più efficace la presenza di un familiare con loro che gli faccia sentire un po' ancora a casa. L'obiettivo è di dare la sensazione che l'hospice sia molto accogliente e assomigli un pochino al loro domicilio. Certo che le cure palliative hanno come setting assistenziale di prima scelta la casa, il proprio domicilio. Ognuno di noi vorrebbe morire nel proprio letto, nella propria stanza, con i propri cari vicino. Non sempre questo è realizzabile. Lei ha scelto di praticare la sua professione presso questo tipo di strutture? Perché? Io nasco come anestesista rianimatore. La mia formazione è padovana, l'anestesista rianimatore è addestrato fin da piccolo, diciamo così, a rianimare tutti, anche i moribondi. Via via attraverso l'attività di anestesista che mi ha portato ad avvicinarmi alla terapia del dolore e quale dolore più impegna il terapista antalgico se non il dolore oncologico. È un grosso cimento. Il fatto di avere a che fare però con malati oncologici, spesso terminali, piano piano mi ha portato a fare una rivisitazione di quelle che erano i miei obiettivi professionali. Il passo è stato progressivo fino ad arrivare alle cure palliative. Nel momento in cui una notte fui chiamato in un reparto di medicina come anestesista, sollecitato dal collega del reparto, che non sapeva più che risposte dare ai familiari, di un signore anziano che era morente. Naturalmente l'intervento dell'anestesista si traduce in una rianimazione cardiorespiratoria, l'intubazione endotracheale del paziente e poi il trasferimento di questo paziente in rianimazione. Di fronte a questa situazione io ho preso i familiari in disparte e ho detto se fosse mio padre io lo lascerei morire, anzi me lo porterei a casa, oppure lo lascerei in pace e cercherei di stare vicino a lui il più possibile, magari stringendogli la mano o accarezzandogli la fronte. e i figli, i due figli di questo signore, mi hanno guardato con gli occhi lucidi e hanno detto Dottor Garazón, la sensazione di aver dato dignità alla morte imminente di quest'uomo, comunque accudito e sollevato dalla presenza dei propri familiari vicini e dopo, a distanza di qualche giorno, uno dei due figli tornò a trovarmi per ringraziarmi. E lì capì che quella era la scelta giusta, il passo giusto. La cosa che si nota entrando in questo hospice è il sorriso del personale. Racconto un aneddoto proprio legato ad un hospice, ad una signora di una certa età che aveva fratture multiple da metastasi osse, aveva un dolore molto intenso e il ricovero in realtà fu legato prevalentemente per questo obiettivo, cioè riuscire a gestire meglio il dolore. Questa signora, prima di morire, di passare a miglior vita, come si dice, di lasciarci, un giorno ebbe a dirci ma sapete che questo posto dà allegria? Io lo chiamerei la casa del sorriso. Questa cosa ci fece molto pensare, oltre a farci piacere ovviamente, ci fece anche capire che il nostro compito non è solo quello di svolgere un'attività professionalmente valida, ma anche quello di dare una sensazione di normalità e quindi anche di sorriso, anche non dico di allegria, ma almeno di non dare una sensazione di funerale. Per lavorare in queste strutture bisogna passare una sorta di esame, nel senso che non è come lavorare in un ospedale normale. Richiede un percorso non solo professionale, ma anche personale e deve essere una scelta di vita ed una scelta professionale. La cosa che io ritengo negativa al massimo è obbligare una persona ad occuparsi di cure palliative contro la sua scelta. Il 99% dei nostri malati, dei malati che noi seguiamo, moriranno entro uno, due, tre mesi. Nessuno, né medici, né infermieri, sono preparati a seguire e ad assistere persone che quasi nel 100% moriranno a breve. Sono abituati, esattamente al contrario, a far guarire le persone malate e a rimandarle a casa in condizioni migliorate. Bisogna dare a tutti l'opportunità di mettersi alla prova e di mettere alla prova le proprie capacità. Il rischio è di perdere poi magari dei bravissimi infermieri o dei bravissimi medici nel giro di poco tempo perché non sopportano di veder morire i loro assistiti. Lei è conscio di fare del bene? Allora, io non mi sento né un santo, né un martire, né tantomeno un missionario. Io cerco di svolgere il mio compito al meglio. È una scelta di vita, nel senso che lo faccio perché, tra virgolette, mi piace farlo nella misura in cui mi dà soddisfazione, una soddisfazione interiore, morale, non certo materiale. Hospice non vuol dire eutanasia. L'anno scorso, nel periodo di Pasqua, i primi di aprile, sull'osservatore romano online comparvero due articoli, uno dei quali parlava di eutanasia e ovviamente dal punto di vista cattolico l'eutanasia è considerata un peccato mortale. Ma subito dopo c'era un altro articolo sulle cure palliative che venivano presentate come l'unica vera alternativa all'eutanasia. E io sposo in pieno questa fase di apertura del mondo cattolico perché di fatto le cure palliative, se applicate in maniera adeguata, riducono la richiesta di suicidio assistito e di eutanasia. Nel momento in cui togli il dolore in maniera adeguata la richiesta di eutanasia che magari il paziente ti ha fatto mezz'ora prima improvvisamente scompare. Il paziente riacquista un sorriso, riacquista la voglia di vivere, vede il mondo con un colore diverso, non più funereo, non più nero. Se gli togli la sofferenza a ciascuno di noi, modifichi l'approccio alla realtà. Il problema è che l'ignoranza e la scarsa diffusione della conoscenza delle cure palliative producono queste strutture. Ecco, è importante questo messaggio che arrivi a più persone. Le cure palliative sono la vera unica alternativa all'eutanasia e al suicidio assistito. E non lo dico solo io, lo dicono anche personaggi dell'alta curia vaticana. alla prossima! Grazie a tutti.